La festa a mare e gli scogli di Sant'Anna nell'epoca del post-Covid. Siamo ad una settimana dall'evento, l'altra domenica, 26 luglio. Vice sindaco di Vaia, insomma sappiamo che le avete tentate tutte. Alla fine cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Questa edizione salta o si fa? L'88, quella che sarebbe dovuta essere l'88 edizione della festa salta, ma devo permettere che la festa così come la conosciamo tutti quanti non si sarebbe potuta celebrare per ovvi motivi di sicurezza. Attesa la circostanza che l'emergenza Covid esiste ancora, anzi non mi lascio scappare l'occasione per raccomandare a tutti la massima prudenza ancora. Il livello di attenzione deve essere ancora alto perché l'emergenza esiste e non è stata debellata. Adesso le normative vigenti ci parlano di questa situazione, per cui massima attenzione. Detto questo, insieme ai professionisti che da anni ormai affiancano l'amministrazione per l'organizzazione della festa, in stretto contatto con Enzo Ferrandino e tutti i colleghi della maggioranza, abbiamo tenuto questo filo rosso che ci univa alla Regione Campania, alle Forze dell'Ordine, in particolar modo alla Polizia di Stato che mi sento di ringraziare per l'enorme disponibilità mostrata in questi giorni. Abbiamo studiato ogni formula possibile per celebrare almeno un saluto a Sant'Anna. Alla fine, sentiti anche i commercianti del borgo, gli operatori di settore, è prevalso il buon senso e io dico della pubblica amministrazione sì, ma anche dai feedback che stiamo avendo in queste ore di tutta la comunità isolana che si rende conto del momento che stiamo attraversando. Naturalmente c'è grosso rammarico perché la festa di Sant'Anna è stata sospesa solo in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, quindi sentiamo la responsabilità di questa scelta ma ecco appunto, permettimi di ripetermi, alla fine è prevalso il senso di responsabilità e credo che sia stata comunque la scelta migliore. Naturalmente questi giorni, questi mesi ci hanno consentito di porre le basi per la festa dell'anno prossimo che ci auguriamo possa in qualche modo ristorarci dell'enorme delusione di quest'anno.